...è diventata famosa a livello mondiale perché la Malibran è... Eeeh... Ancora adesso, le più grandi cantante linee che dicono Ah, la Malibran è dell'Ottocento, stiamo parlando, di sé quali fa, eh? Noi abbiamo un altro primato qua a Venezia Abbiamo, solo per andare a piedi, attaccato il Comune di Venezia dentro un angolo, pochi oziani in futuro, è molto pochi almeno che non si approfondisce un po' di cultura Abbiamo avuto la prima donna laureata al mondo qua a Venezia che si chiamava Biscottia Lei aveva, aveva appena 27 lauree È molto giovanissima Hai capito? È una gravissima malattia perché in quegli anni la... Gatti da fare? Ehi, io, io, io La tre mariole, porca vacca E quella non è una, è una gondola, quella non è proprio una gondola Questa è diversa, questa è la vera gondola Quella non è una gondola, si chiama Sambolo Eh, è diverso Se tu la vedi una gondola, vedi che è Cuba Poi dopo, fatti tu, Stefano c'ha tutto Perché ci spiega tutto, è... Sì, sì, è meraviglioso Certo che tenerla anche così è una meraviglia, eh Bine